Non siamo un parchito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Abbiamo bisogno di una classe politica con la spina dorsale dritta, prima di tutto. Dietro questi numeri ci sono delle persone, delle famiglie che non hanno neanche diritto a un minimo di reddito di cittadinanza per poter andare avanti. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce, non associazioni, una rete di persone in connessione diretta, siamo il popolo del web indiretta. Il Movimento 5 Stelle è, sempre sarà, per la difesa dei trasporti sostenibili e del sistema ferroviario. Per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino, stop al nucleare, lo capisce anche un bambino, internet libero, gratis per ogni singolo. Ma basta al culo che griglia il mondo! Hai capito? Ciuture non si arrenderanno mai, ma gli conviene ogni pure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo un cittadino e punto è basta.